Musica Angruas, seit biedervolchentav tizimbarerde. Angruas, seit biedervolchentav tizimbarerde. Der neue Provinzalrat hat auch gelegt die Stati Generali della Montagna, so zu unterstützen, die seine Länder und die seine Leute, wo er erst mal hat ein Kommen der kennt als etwas Bichte, wo er auch haltet unser schümmer Provinz, gemacht als mehrere Städte. Im Treff, wo er ist gehalten in Schalabacher, wo er sitze Fugati und die Assessoren, Segnana und Gotardi, haben gehört die Bürgermeistern und die Leute, wo er zugeholt hat, was er glaubt hat, wo er die Kommen getont hat, um die Leute vom Berge zu halten. In Schluss sind die Administratoren und Leute nicht nur in der Rundsache und in der Balschugone, sondern auch in der Wallagarin von Garniga. Wied, haben wir getrackt, dass man er nicht mehr in der Rundsache beschert wird, in der Arbeit bei Garniga und überhaupt in der Balschugone bereist 130 00.00.000.000 zu den servizien, in der unser Kommen der regionale und eine Stärke zu tun. Und in der man eine Stärke ist, muss er auch als leben, ohne die monitoring die Innenver havemachung als nicht in der Stadt. Die Assessoren Segnana hat gmacht wissen, che si sia già già diventata con un amministratore che si sa e che si sa chiede da quale o non in quanto i miei bambini, in quanto i miei famigli, dove i bambini erbbero, come vivere, in quanto i tre anni in Londra. Il fatto di questo, ha anche l'euro e che si è chiesto di lavorare. in un'altra parte. In questo caso ci sono molte cose che hanno scritto il 7o, dopo 176, ma in questo caso ci sono molte. In Roma, Luzerno e il progetto 9 tripponi di Sambinello scrittono le boate. Gons viene dietro il progetto Intervento 19 Residenza Valle dei Laghi, Boccavedine in un concorso 176 volte in Europa dove hanno chiamato tutti i campionati della provincia. In questo caso, tutti in Luzerno hanno votato o hanno sbagliato in un progetto dell'Unione Europea. Molto di Luzerno non hanno votato in Internet, ma hanno un'altra parte o in Tendu del 4o di Catria a Sulwe del maggio dove è la finale del concorso. Molto di vedere che in Luzerno in cui si tratta di un'altra parte di un'altra parte e di un'altra parte di un'altra parte. Grazie a voi in un'altra parte da Elena Golo in Fiorenzovon Castellet dove hanno curato e la presentazione di un'altra parte 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 che hanno fatto di un'altra parte che otterganno dell'Europa che ho pensato a tutti i Votatori in Parlamento europea I Fulgariani sono stati votati da 9 Bürgermeisteri e sono stati che sono stati in Camus per 6 anni. Anche in questi giorni sono stati arrivati dal commissario Marco Viola, che in Voronahì ha chiesto le minori della provincia. Queste elezioni sono stati 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 candidati da Fulgariani, che sono stati votati da Reda Pinzboa. Fulgariani è il messaggio che lancio attraverso le mie due liste di Insieme per l'Altopiano del Futuro e di Insieme per Fulgaria. Due liste che hanno al loro interno 10 giovani tra i 22 e i 30 anni, la rappresentanza dell'economia locale, della società civile, delle associazioni di volontariato e la rappresentanza territoriale. Fulgariani è il cuore perché noi vogliamo che chi nasce, chi cresce, chi vive, chi lavora, chi invecchia Fulgaria, possa essere messo al centro dell'attenzione per avere una qualità della vita eccellente e perché partendo da questo presupposto siamo sicuri che anche chi frequenta la nostra località in termini occasionali, piuttosto che in termini turistici legati alla stagionalità invernale o a quella estiva, sa che nel momento in cui chi vive a Fulgaria vive bene, anche lui stesso troverà una località accogliente ed idonea a quelle che sono le sue esigenze. Insieme invece sta a significare che in questa comunità c'è bisogno di fare rete, di costruire dei meccanismi di collegamento con le varie realtà. Ogni realtà, visto che Fulgaria oltre al capoluogo ha 8 frazioni e circa 20 microfrazioni, ogni realtà abbia una propria identità, un progetto specifico affinché anche il fenomeno legato alla destra generalizzazione e da un lato e lo spopolamento dall'altro possono essere risolti nel migliore dei modi. Tra i progetti importanti ne abbiamo uno che riguarda la valle del Rio Cavallo, si chiama Valle Viva, è collegata all'agricoltura di mezza montagna, alla permocultura, ai prodotti medicinali, ma soprattutto a una percorribilità da Fulgaria fino a Castel Beseno attraverso diverse possibilità con la mountain bike, col cammino e attraversando punti strategici come il Mullino Rella o la cascata dell'Onfettol alla Guardia. Nell'Oltre Sommo un progetto legato è molto simile a queste caratteristiche per quanto riguarda il Monte Cornetto, non tanto in termini di impianti a fune, ma di sviluppo di quella montagna soprattutto dal punto di vista estivo da un lato con delle iniziative specifiche, punti panoramici, miglioramento della sentieristica e a livello invernale con delle piste di slittino sia sul versante dell'Oltresomo che su quello fogaretano e quello che riguarda anche l'aspetto collegato alle ciaspole e allo sci d'alpinismo. La viabilità verso il fondo valle per noi è determinante per quanto riguarda lo sviluppo e il miglioramento di quella attuale. Però prima di pensare ai grandi progetti, abbiamo sentito parlare di funicolari o di altri meccanismi di questo genere, dobbiamo cercare di creare una mobilità interna che vada incontro alle esigenze dei nostri giovani ma anche delle persone anziane. Ho scelto di candidare come candidato sindaco delle liste impegno civico e idee in comune perché credevo importante rappresentare un mondo, un insieme di persone molto rappresentativo del territorio e trasversale dal punto di vista della provenienza sociale ed economica. Il nostro programma consiste in due filoni principali, comunità al centro, persone al centro, quindi il varo di un corposo programma di iniziative culturali e sociali e di servizi mirate proprio alle persone. Questo è un territorio che per troppo tempo si è abituato a parlare solo di turismo, solo di progetti turistici, di come far stare bene gli ospiti, dimenticando invece che per essere forti serve una comunità robusta, coesa e che vive bene. Dall'altra parte serve economia e serve ambiente, quindi la seconda parte del nostro programma consiste in una riprogettazione e la proposta di un robusto insieme di iniziative volte ad aprire una nuova stagione di sviluppo, uno sviluppo turistico, principalmente estivo e uno sviluppo di tutte quelle attività economiche anche non direttamente collegate al turismo, quindi tanto artigianato, tanta agricoltura di media montagna e di montagna. Lavorare sulle frazioni di questo territorio cercando di dare ad ogni paese una propria identità sia culturale che urbanistica. I nostri sono paesi che negli ultimi anni hanno perso pezzi sia delle persone, quindi di residenti, ma anche da un punto di vista degli spazi fisici, paesi in abbandono che quasi sembrano una cartolina degli anni 70-80. Abbiamo voglia di impegnarci nel ridare prestigio, nel ridare valore agli spazi pubblici, alle vie, alle strade e agli edifici. Ma grande lavoro andrà fatto nei servizi pubblici. Un'amministrazione comunale in grossa difficoltà, i nostri sono comuni che attraverso il patto di stabilità e i blocchi delle assunzioni hanno perso davvero tanti pezzi. Il risultato è stato un impoverimento dei servizi nei confronti dei cittadini e una lungaggine dei tempi. Noi abbiamo voglia di capire insieme ai collaboratori dell'ente pubblico come poter migliorare la situazione come poter ritornare soprattutto a far funzionare bene acquedotto, ciclo dell'acqua, energie rinnovabili e rifiuti. Per risolvere una mobilità che non potrà essere ancora basata sulle ruote e sulle strade, nonostante ci sia un grande bisogno di interventi anche lì, credo che con le persone giuste si riesca a fare. O meglio, le persone fanno sempre la differenza. Questo libro è un po' di ultimo gruaggio. È un po' di Marcella Nicolucci Paolaz, in cui dopo 98 anni Boda, dopo aver fatto un po' di Europa, si è messo e aveva un hotel in Sperlonga, in Roma, perché aveva fatto un po' di Zimbaria d'O, e non aveva mai avuto un po' di questo libro. In un mondo in cui ha lavorato in un po' di Zimbaria d'O, un po' di Zimbaria d'O, un po' di Zimbaria d'O, un po' di 13 giorni. E' stato molto forte nella Commissione d'O, un po' di questo libro. E' un po' di Zagiaria. E' un po' di Gianni Rappelli, un po' di Zimbaria d'O. E' un po' di Zimbaria d'O. Stefano Bungalen.